ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale oggi vi mostro un video veramente con tanta gioia in quanto vi sto per far vedere un premio che ho ricevuto per aver vinto un giochino che si è svolto qui su youtube il giochino era sul canale di elsa che ancora ringrazio infinitamente elsa ha un canale youtube è nato da poco ma che veramente ci ha già donato tanto sia a livello umano che a livello di creatività a livello umano perché ha coinvolto appunto tante di noi a questo giochino meraviglioso e quindi io sono stata tra le vincitrici sono stata veramente felice di questo vi lascerò ovviamente qui sotto nell'info box il link al suo canale per andare a vedere le meraviglie che fa perché capirete già da quello che vi mostro quanto è brava elsa è veramente lascio voi le parole cioè veramente questa creazione che tra l'altro mi ha fatto scegliere perché ha dato la possibilità che ha vinto di scegliere proprio la creazione che lei mostrava nel video apposito del giochino io ho scelto questa che mi aveva colpito tantissimo anche quando l'avevo mostrato durante il giochino appunto ed è davvero una creazione principesca lavorato lavorata veramente in una maniera divina cioè guardate tutti i dettagli guardate che guardate che bella cioè lascia veramente senza parole questo cabochon poi è bellissimo tra l'altro ecco dava la possibilità di scegliere una sua creazione oppure alcuni cabochon appunto di questi che sono veramente favolosi io anche se sono una creativa ho optato per la creazione perché come sapete a me piace tantissimo indossare creazioni di altre creative e quindi sono stata veramente contenta di poter scegliere questo gioiello favoloso proprio un gioiello principesco guardate che meraviglia proprio tutti i piccoli dettagli bella 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 questa è appunto tra l'altro la chiusura fatta proprio tutto con tutto tutto con perline ed è veramente bellissimo bella 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 in più elsa è stata veramente un tesoro perché proprio non mi aspettavo di ricevere anche un qualcosa in più perché già questo è tanto è un premio veramente favoloso in più mi ha regalato anche un cabochon che mi ha detto appunto di utilizzarlo io come meglio preferisco sulla mia creazione quindi veramente guardate sono bellissimi cioè bello 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 e spero spero di utilizzarlo al più presto più che altro spero di trovare il modo giusto per poter per poterlo utilizzare in modo meraviglioso come li hai utilizzati tu bene io ringrazio nuovamente ancora tantissimo elsa veramente sono felicissima di questa vincita quando ho ricevuto il pacchetto l'ho aperto veramente mi sembravo mi sembrava natale e tra l'altro questo stato un giochino proprio nella nel periodo natalizio quindi veramente meraviglioso come regalo e niente io vi ringrazio per aver visionato questo video e ci vediamo alla prossima ciao